Spinoza, volontà e finalismo. La volontà non può essere chiamata causa libera, ma solo causa necessaria. Dimostrazione. La volontà, allo stesso modo dell'intelletto, è soltanto un certo modo del pensare e perciò ciascuna volizione non può esistere né essere determinata ad operare se non è determinata da un'altra causa, è questa a sua volta da un'altra, e così via all'infinito. Che se una volontà è supposta infinita, deve pure essere determinata ad esistere e a operare da Dio, non in quanto è una sostanza assolutamente infinita, ma in quanto ha un attributo che esprime l'essenza infinita ed eterna del pensiero. In qualunque modo dunque sia concepita, o come finita o come infinita, essa richiede una causa dalla quale sia determinata ad esistere e ad operare, e quindi non può essere detta causa libera, ma soltanto necessaria o costretta. La perfezione di Dio non gli consente di perseguire alcun fine. Ho spiegato conciò la natura di Dio e le sue proprietà, cioè che egli esiste necessariamente, che è unico, che è e agisce per la sola necessità della sua natura, che è causa libera di tutte le cose, e in qual modo lo è, che tutte le cose sono in Dio e dipendono da Lui in modo che senza di Lui non possono né essere né essere concepite, e infine che tutte le cose sono state predeterminate da Dio, non già in vero mediante la sua libera volontà o il suo assoluto beneplacito, ma mediante la natura assoluta di Dio, ossia mediante la sua infinita potenza. Inoltre, dovunque se ne è presentata l'occasione, io mi sono curato di eliminare i pregiudizi, e poiché tutti i pregiudizi che qui mi propongo di indicare dipendono da questo solo pregiudizio, cioè che gli uomini suppongono comunemente che tutte le cose della natura agiscono, come essi stessi, in vista di un fine, e anzi ammettono come cosa certa che Dio stesso diriga tutto verso un fine determinato, dicono infatti che Dio ha fatto tutto in vista dell'uomo, e ha fatto l'uomo perché lo adorasse. Ma per mostrare ora che la natura non ha alcun fine che le sia stato prefisso, e che tutte le cause finali non sono altro che finzioni umane, non c'è bisogno di molte parole. Tuttavia, aggiungerò ancora questo, cioè che questa dottrina finalistica sovverte totalmente la natura. Essa infatti considera come effetto ciò che in realtà è causa, e viceversa. Fa poi posteriore ciò che per natura è anteriore, e infine rende imperfettissimo ciò che è supremo e perfettissimo. Inoltre, questa dottrina annulla la perfezione di Dio, giacché se Dio agisce per un fine, egli allora necessariamente appetisce qualche cosa che gli manca. Gli uomini confondono le proprie idee con gli scopi della natura. Chi ha stabilito di fare una cosa, e l'ha compiuta, dirà che la sua opera è perfetta, e lo dirà non lui soltanto, ma anche chiunque conosca bene o creda di conoscere, la mente è lo scopo dell'autore di quell'opera. Per esempio, se uno vede un'opera, che suppongo non ancora compiuta, e sa che lo scopo del suo autore è di costruire una casa, dirà che la casa è imperfetta. Al contrario, quando la vedrà arrivata al fine che l'autore aveva stabilito di darle, dirà che è perfetta. Ma se uno vede un'opera e non ha mai visto niente di simile, né conosce l'intenzione dell'artefice, non potrà certo sapere se quell'opera è perfetta o imperfetta. E questo pare sia stato il significato primitivo di queste parole. Ma dopo che gli uomini hanno cominciato a formulare idee universali e modelli di case, edifici, torri, e a preferire alcuni modelli di cose ad altri, è accaduto che ognuno chiamasse perfetto ciò che vedeva accordarsi con l'idea universale che si era formata di tale cosa, e al contrario imperfetto ciò che vedeva accordarsi meno con il modello concepito, anche se era stato portato completamente a termine secondo le intenzioni dell'artefice. Ne sembra essere diversa la ragione per cui anche le cose naturali, quelle cioè che non sono state fatte dall'uomo, si dicono comunemente perfette o imperfette. Infatti gli uomini sono soliti formarsi, sia delle cose naturali, sia delle cose artificiali, idee universali che considerano come modelli delle cose. E ritengo che la natura tenda ad esse e se le ponga come modelli. Credono infatti che la natura non faccia niente senza un fine. Quando dunque vedono accadere qualcosa in natura che coincide poco con il modello concettuale che essi ne hanno, credono allora che la natura abbia mancato o sbagliato e abbia lasciato quella cosa imperfetta. Vediamo quindi che gli uomini sono soliti chiamare perfette o imperfette le cose naturali più per pregiudizio che per una vera conoscenza di esse. Infatti, nell'appendice alla prima parte, abbiamo mostrato che la natura non agisce in vista di un fine. Infatti, l'ente eterno e infinito che chiamiamo Dio o natura agisce con la stessa necessità con la quale esiste. Esso infatti, come abbiamo mostrato nella prima parte, agisce con la stessa necessità di natura in cui esiste. Quindi la ragione o causa per cui Dio, ossia la natura, agisce ed esiste è una e identica. Perciò, così come non esiste per alcun fine, nemmeno agisce per alcun fine e non ha alcun principio fine né del suo esistere né del suo agire. La causa che viene chiamata finale non è quindi altro che lo stesso umano appetito considerato come principio causa primaria di qualcosa. Per esempio, quando diciamo che la causa finale di questa o quella casa è stata l'abitazione, non intendiamo altro se non che l'uomo, avendo immaginato la comodità della vita domestica, ha avuto l'appetito di costruire una casa. Perciò l'abitazione, considerata come causa finale, non è altro che questo singolo appetito, il quale in realtà è una causa efficiente che viene considerata causa prima, perché gli uomini di solito ignorano le cause dei propri appetiti. Infatti, come ho già detto parecchie volte, essi sono consapevoli delle proprie opinioni e dei propri appetiti, ma ignari delle cause da cui sono determinati ad appetire qualcosa. Che poi gli uomini comunemente dicano che la natura a volte è in difetto o pecca o produce cose imperfette, lo annovero tra le finzioni di cui ho parlato nell'appendice alla parte prima.